Dio ha qualcosa da dire a chiunque, a chiunque vuole ascoltare e Dio vuole parlare al tuo cuore, alla tua vita anche in questo giorno. Quella sera sentì la voce del Signore con la presenza del suo spirito in tutto il corpo che mi attestava e mi diceva in coscienza molto forte, questa sera io ho visitato la vostra casa. Gesù è venuto per morire, per dare la sua vita sulla croce per noi, la sua morte ha un valore straordinario, egli innocente per i colpevoli, egli il santo per i peccatori, ha dato la sua vita per espiare le nostre colpe. Grazie. 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 Grazie.